Ciao a tutti da Miranda! Benvenuti sul mio canale! Vado a provare oggi i nuovi Mirka Cookies Ness! 6 pezzi. Apertura facile. Dovrebbe. Si aprono di qua. Vi faccio vedere bene prima la scatolina. Cheese? Foto? No! Si! E poi ci sono appunto safe net dentro. Andiamo ad assaggiare! All'inizio è così. Sì, è così. Cioè all'inizio è così. Poi ne vado ad aprire un altro perché sembra che ne manchi un pezzo. Ma è proprio così, sicuramente. Quindi all'inizio ho questo pezzo di biscotto. Lo rimettiamo qua prima che mi si sciolta in mano. Mmm! Ha proprio gusto del biscotto appunto del cookie cookies. Cookie. È una cialda molto croccante all'interno. con pezzetti di cioccolata. E poi... Cioccolata... Mmm! Cioccolato latte. Sì. Gusto latte. È molto buono. Non sento il fondente. Poi ha anche del caramello. Quindi è ricoperto anche di caramello. E poi c'è la copertura di cioccolato al latte. Quindi dentro è biscotto, pezzetti di cioccolata, o meglio, cioccolato al latte. Poi, appunto, ha una piccola copertura. Si sente una specie di caramello perché è un po' attacca. E appena appena. E poi ha questa colata di cioccolato al latte. È buona. Mmm! È molto croccante. E io sento appena appena... Cioè, è dolce. Sento appena appena una nota di salato. Ma proprio appena appena... Quel pizzichino. Mmm! 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 Ne andrei a aprire un altro. Perché non mi convinceva bene la punta. Così con la scusa ne mangio un altro. Mmm! 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 Ma secondo me la punta è giusta. Vediamo. Sì, è proprio così. Una delle due punte, che poi ho preso la punta giusta, come prima, una delle due punte è solo biscotto senza copertura di cioccolata. Chissà perché è così. Eh già. Beh. Vado a darne un altro morsetto. Che ne dite, eh? Mmm! 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 Ve li consiglio. Andate a comprarli. Sono molto buoni. Ciao a tutti da Miranda. Alla prossima. iscrivetevi al mio canale cliccando la campanellina sulla destra per ricevere tutte le notifiche. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti.